Bilancio finanziario senza nuove tasse nel 2014 per la regione toscana, con il riordino delle agevolazioni e qualche sconto in più sull'IRAP. La Giunta regionale ha messo a punto un bilancio che sfiora i 9 miliardi di euro, di cui 6 miliardi e 600 milioni andranno alla sanità e 248 al sociale. La nuova programmazione dei fondi comunitari sarà avviata subito anticipando 82 milioni con fondi regionali. In diminuzione la spesa per il personale e per gli affitti, mentre aumentano mutui e prestiti anche per quelli contratti per alzerare i vecchi debiti con i fornitori. Stanziati 42 milioni di euro per il progetto Giovanni Sì e 25 per il pacchetto di aiuti alle famiglie, dal bonus bebè ai prestiti per i lavoratori senza stipendio. Sul fronte investimenti, per il 2014 la regione ne ha previsti per 866 milioni di euro. Di questi, quasi 57 milioni riguardano il miglioramento della viabilità di interesse regionale e 17 l'erosione della costa. Per la messa in sicurezza contro alluvioni e frane, invece, ne sono stati stanziati 50. Sul fronte fiscale, la regione ha previsto entrate per 7 miliardi e mezzo di euro. Le novità principali riguardano l'IRAP. L'aliquota base resta il 3,9%, ma potranno accedere alle agevolazioni anche le imprese che lavorano in rete o si insediano in aree di crisi. Oppure investono in settori innovativi. Prorogato lo sconto per chi assume dalle liste di mobilità o per chi investe in cultura o tutela del paesaggio. Scompaiono le agevolazioni per le imprese con certificazione di responsabilità sociale, mentre niente IRAP per i negozi delle aree montane che svolgono servizi per la collettività. Restano invariati il bollo auto e l'addizionale IRPEF. Cancellate le detrazioni per i figli a carico o disabili, compensate però dai contributi diretti alle famiglie che abbiamo già citato. Bilancio finanziario 2014 sono adesso all'esame del Consiglio regionale, che dovrà dare il via libera entro la fine dell'anno.